La città di Lecco approfitta dell'estate per farsi bella, per ripartire a settembre e soprattutto per i giovani. Quali sono i progetti? Siamo partiti proprio da una richiesta dei ragazzi. A noi piace ascoltare le esigenze della cittadinanza e rispondere prontamente. La cosa che i ragazzi ci chiedono di più e ci hanno sempre chiesto sono gli spazi per i giovani. Siamo partiti insieme all'assessore Sacchi e all'assessore Torri riqualificando le due palestre all'aperto in zona Rivabella e Pescarenico con il parco Eunice Kennedy tra il Vertacchi e il Bovara. Tra pochissimo vedrà la luce anche il playground qui in zona Germanedo quindi con un campetto da basket, una zona parkour e una zona skateboard. Finalmente anche i ragazzi avranno dei luoghi in città dove poter trascorrere le loro giornate, dove poter socializzare, stare insieme e sappiamo che a volte questo disturba magari una certa fascia di popolazione ma chiediamo un minimo di tolleranza perché è giusto che i ragazzi possano fare i ragazzi nella loro città e non debbano sentirsi ospiti a casa propria. Dall'altro lato chiediamo ai ragazzi ovviamente il rispetto per chi abita intorno a questi luoghi e giustamente chiede un po' di tranquillità in certi orari della giornata. È quasi alla fine il cantiere per la riqualificazione di questo parco Pertini che prevede la realizzazione di un campo da basket regolamentare da pallavolo e attrezzature per i ragazzi per poter fare skateboard e playground. Questo è stato possibile grazie alla partecipazione al bando di Regione Lombardia Sport Outdoor che ci ha permesso di realizzare l'anno scorso anche le due aree all'aperto dove poter fare ginnastica.